Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal posto Dark House 92 Oggi sono qui perchè come potete vedere tutti mi avete chiesto Dark come si fa a settare OBS Dark come sono i tuoi settaggi Adesso vi farò vedere appunto come sono ok Allora prima di tutto dovete aprire OBS Dovete avere anche OBS come scaricarlo ovviamente è facile Basta comunque andare sto guardando di là perchè ho il secondo schermo Ok eccolo qua basta comunque andare su internet e scrivere OBS Studio e lo scaricate Comunque tralasciando quello vi faccio vedere subito le mie impostazioni Allora qui dovete lasciare tutto com'è Trasmissione ovviamente su trasmissione mettete il servizio YouTube Gaming Ok qua dovete inserire la chiave di stream che si trova sotto Quando andate a cliccare su YouTube Su live streaming adesso ve lo faccio vedere Andiamo su YouTube ok Ok e andiamo su creator studio ovviamente del nostro canale appunto E andiamo su live streaming Su live streaming ragazzi vedrete subito che Qua sotto qua c'è il nome chiave dello stream ok Quindi qui tramite questa chiave di stream dovete copiarla ed incollarla appunto Dove vi ho appena detto quindi qua e fare applica Poi su output ragazzi dovete inserire il sistema di modalità avanzato non semplice Perché su avanzato qui andrete a inserire NVEC H264 Perché con questo INVEC H264 streamerete con una scheda video Quindi con la vostra scheda video se avete una scheda video potente Invece con X264 potrete streamare con il vostro processore Se avete un processore molto buono Io in questo caso streamo con la scheda video e lascio INVEC H264 Qua dovete sempre inserire controllo frequenza CBR Mi raccomando è importante Come abiterete ragazzi io ho inserito 4000 Anche se ho una 100 MB e in upload ho 20-25 MB Io vi consiglio di lasciare 4000 Mi raccomando io ovviamente vi faccio delle mie settaggi E vabbè poi il preset predefinito Profile main livello auto Usa codifica in due passaggi La spuntate GPU 0 e B-Frames 2 Ok? E fino a qua ci siamo Questo è per la streaming Ok? Su audio dovete inserire il vostro audio desktop Quindi il Realtek E su audio microfono il vostro microfono In questo caso io ho il Samsung e inserisco il Samsung Su video ragazzi per streamare 1080p Quindi in HD diciamo E dovete inserire su risoluzione base E su risoluzione output 1920x1080 sia sopra che sotto Quindi in output e in base Ok? Qui sotto ovviamente io ho inserito 60 FPS appunto E su filtro di rimpicciolimento Dovete inserire B-Cubica scalatura affilata 16 campioni Mi raccomando è importantissimo ragazzi Questi sono i miei settaggi ovviamente Di OBS Io con questi settaggi vado tranquillo Senza lag e senza niente Adesso ragazzi passeremo appunto A questo qua Questo qua ragazzi è facile da inserire Adesso vi spiego come si fa Ok? Questo sarebbe il TRN Fortnite Tracker Che sarebbe in tempo reale Quante win stai facendo Quante è il tuo KD Quanti sono le totali win che hai Lifetime KD Horatime del tuo KD Eccetera 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 Questo è il win rate Quindi quanto a percentuale avete di win Eeeh Journal match Nel senso Proprio in real life Eeeh E niente Adesso vi faccio vedere Andiamo Qui E scriviamo Fortnite Tracker E' molto facile Non ci vuole niente Andate qui Cliccate E qui inserirete il vostro nickname In questo caso io inserisco ITL Dark Chaos 92 E qui ovviamente Spuntano tutto quello che hai Ovviamente qui dovete fare Lifetime Quindi all Tutto Vi fa vedere le vostre win Il percentuale di win Il KD Le kill in totali E tutto questo Dove c'è scritto qui OBS Lo vedete con il mio mouse qui OBS Cliccate su OBS E vi spunterà appunto Eccola qui Questa paginetta Questa paginetta E' appunto il Fortnite Tracker Che se voi ci cliccherete Vi manderà qui Dovete prendere questo link E' molto facile la cosa Copiarlo ragazzi E andare qui Create la scena Ovviamente La vostra scena Che volete creare Quello che è Qui dovete cliccare Su browser Source Cliccando qui Inserirete il nome Quindi in questo caso Mettete che ne so Stats Fortnite Tracker Ok E qui Inserirete appunto Il link che avete copiato da qui Fate ok E come potete vedere Eccoci qua Questo è il nostro Fortnite Tracker E' easy ragazzi E' molto 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 Facile Ragazzi Io spero che questo Tra virgolette Tutorial Vi sia piaciuto E vi sia stato Di molta importanza Spero che avete capito Il tutto Se non avete capito Riguardatevi di nuovo Il video Io che vi Che vi devo dire ragazzi Vi saluto Dal vostro Darkhouse E' tutto Mi raccomando Lasciate un bel like Perché comunque Mi fa vedere Che mi supportate tante Un bacione Dal vostro Darkhouse 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 Darkhouse